Buongiorno a tutti! Allora oggi una di voi mi ha chiesto di fare un video sulla fortuna, quindi se la fortuna ci assisterà nei prossimi mesi o comunque nel periodo prossimo. Io devo dire che credo nella fortuna, nel senso che credo un po' alle botte di culo, diciamocelo, però ritengo anche che la fortuna vada in qualche modo aiutata. C'è il detto che dice la fortuna aiuta gli audaci e io sono una fan di questo detto, nel senso che io tutte le volte che ho avuto sì un colpo di fortuna, ma perché io avevo agito in qualche modo, avevo fatto qualche cosa e quindi le energie si erano un po' attivate e quindi mi era venuta insomma, mi è capitato poi sto treno eccetera eccetera. Quindi io sono convinta che le energie vadano sempre un po' attivate, un po' accompagnate. Certo è che comunque ci sono delle energie che lavorano oltre il nostro volere e che quindi diciamo possiamo chiamare fortuna. Abbiamo qua tre pile come sempre, sono tre tipi di fortuna diciamo diversi, nel senso che abbiamo qua pila 1 abbiamo i cornini, i cornini che sono simbolo di scaramanzia per antonomasia, con le monete d'oro e le pepite, quindi diciamo una fortuna di tipo materiale se vogliamo, un trovare, un trovare una fortuna materiale. Poi abbiamo un altro tipo di fortuna che può essere raccolto, ok? Quindi avere un buon raccolto. Abbiamo la coccinella, anche lei simbolo di fortuna e poi abbiamo quattro risorse, argilla, legno, grano e pecore, quindi diciamo un raccolto molto ricco, ecco quindi la fortuna di avere un raccolto ricco. E poi abbiamo questo simbolo di fortuna che a me ricorda assolutamente le vacanze, il mare, il sole, che meraviglia! E abbiamo un tipo di raccolto ancora diverso, cioè questa conchiglia, io non so se lo vedete, che ha dentro queste conchiglie piccolissime, che ovviamente la sottoscritta ha trovato in spiaggia, e quindi diciamo un raccolto se vogliamo, più raccolto, più così, di entità se vogliamo minore a livello materiale, ma chi lo sa magari di entità maggiore a livello spirituale, questo lo vedremo, lo potremo vedere solo dalle carte, sinceramente non lo so, ma mi sembrava che si abbinassero bene. Quindi prendetevi il vostro tempo per scegliere come al solito pila 1, pila 2 o pila 3, fate un fermo immagine se ne avete bisogno, io vado a rimuovere pila 3, con molta cautela, e pila 2, e andiamo a lavorare con la pila 1. Allora, pila 1, se avete scelto le pepite, le monete, tutto questo ben di Dio, e i cornini scaramantici, allora questa è la vostra lettura, io faccio sempre ombra, ancora non ho capito che la luce viene da Dio. Allora, vediamo un po', questa la lasciamo per ultima, è un arcano maggiore che simboleggia la vostra lettura, quindi la lasciamo per ultima, vediamo un po' cosa ci dicono le altre carte, allora abbiamo l'imperatore, poi abbiamo dieci di pentacoli, direi che si abbina assolutamente agli oggetti che c'erano sopra, allora mettiamole così, ok. Quindi già da queste due carte mi viene da dire che la fortuna che c'è in questa pila non è una fortuna se vogliamo immediata, non è la botta di culo immediata, ok? È una fortuna che costruirete col tempo, ok? È una fortuna che richiede pazienza, ma nel momento in cui riuscirete ad attivare questo tipo di energia, ragazzi, cioè non ce n'è per nessuno, qua ci sono dieci pentacoli e il dieci è proprio il numero della riuscita, ok? Della riuscita, del compimento, del coronamento, infatti qui abbiamo peraltro anche una famiglia felice con i cani, il castello, quindi insomma un benessere solido, stabile, quindi non una fortuna fugace, ok? Quindi ottimo, veramente ottimo e niente, molto buono. Poi vediamo, abbiamo by the book, questo significa, si ricollega con l'essere saggi, significa il seguire, by the book significa proprio tipo seguire le istruzioni e in realtà è un invito a guardare quello che hanno fatto le persone prima di voi della vostra famiglia, quindi i vostri avi o magari appunto persone che sono ancora vive nel senso, ma chi è più grande di voi nella vostra famiglia ha fatto qualcosa da cui trarre spunto, almeno questo è quello che ci dice la carta. In ogni caso, ripeto, si ricollega con la saggezza, con la pazienza, con il non voler tutto subito. Vediamo le normande, cosa dicono? Allora abbiamo il 6 di bastoni e abbiamo il 9 di coppe, quindi il 9 di cuori. Allora c'è un qualcosa che ha bisogno di essere cambiato per attivare questa energia, c'è un qualcosa sulla quale ci dovete mettere una croce sopra, detto proprio papale papale, che battuta mamma mia, però è proprio quello che mi arriva, nel senso c'è questa croce nella chiesa che tra l'altro, ripeto, si ricollega, tra l'altro sembra anche un po' la croce che ha in mano lui, anche se vabbè il suo è uno scettro papale, ma va bene, mi ha però ricordato questo. E quindi anche qui potrebbe voler dire due cose, la prima appunto è che dovete cambiare rotta in qualche modo, cioè qualcosa che va cambiato per riuscire a costruire questa fortuna. La seconda però, visto che mi si riconnette con il Papa, è anche un bisogno di spiritualità, di introspezione, di... mi viene in mente la parola adagio, questo lo sapete voi che cosa vuol dire, c'è qualcosa che va proprio coltivato ma è veramente una cosa grossa, c'è un'energia grossa, un lavoro grosso, un qualcosa di grosso, che poi vi porterà appunto a questo tipo di situazione. E poi abbiamo il numero 1, innanzitutto il numero 1 è sempre un inizio, è sempre inizio di qualcosa, è il 9 di cuori, quindi è qualcosa di sicuramente emozionante per voi, e questo è un messaggero, è un messaggero, quindi un portatore di buone nuove, che dopo la croce sopra potrebbe essere un nuovo inizio, perché con il numero 1 potrebbe sicuramente indicare un nuovo inizio. Fatto sa che quello che mi arriva in questo momento è che sicuramente farete tesoro di quello che sono le vostre esperienze, le vostre conoscenze, e ci sarà appunto questo cambio di rotta, questa cosa nuova, questa energia nuova, che si attiverà in qualche modo, che farà sì che poi costruirete la vostra fortuna. Anche complice questa buona nuova, che spero che vi arrivi, insomma. Un quadro assolutamente positivo, c'è una riuscita qui, il 10 è la riuscita comunque, il compimento, quindi ottimo, ottimo. Ok, vediamo l'ultima carta, sono veramente troppo curiosa, abbiamo l'angelo, che in realtà è la carta del giudizio. La prima cosa che mi viene in mente è che ancora si riconnette con la spiritualità, ok, però la carta del giudizio in realtà è molto di più, è proprio un... ma mi viene la chiamata, è proprio la chiamata di qualcosa, e qui c'è il messaggero, qui c'è la croce sopra, quindi ci sta tutto, è proprio il completamento di questa energia che mi viene dalle carte. Ci sarà sì proprio questa chiamata per voi nella vostra vita, questa grossa novità, questa nuova energia, che farà sì che costruirete la vostra fortuna. Wow, mi arriva una roba, ragazzi. Proprio un'energia, come se fosse proprio un'energia atavica, un'energia... altrimenti qui abbiamo due arcani maggiori, quindi è un'energia molto potente, molto potente. Vediamo i vostri chance, vediamo se confermano le carte. Allora, gruppo 1, gruppo 1, la fortuna nei prossimi mesi per il gruppo 1, gruppo 1, la fortuna nei prossimi mesi per il gruppo 1. Il messaggio nella bottiglia, la bottiglia è vuota, lo so, ma per me la bottiglia è proprio messaggero, novità, e ragazzi, confermato dai charms. Quindi messaggero, novità, poi abbiamo, scusate, uso l'altra mano perché almeno 1, l'inizio, scusate, 1, l'inizio, e anche qua si ricollega con questa carta qui. Poi c'è molto lavoro, molto lavoro, c'è il martello, ci sono degli utensili lavorativi, ci sono delle lettere M, Q, K, V, sono tutte lettere strane. Quindi non mi fermerei sulle lettere, c'è molta energia però, c'è l'energia maschile, il numero 4, l'imperatore, c'è amore, abbondanza, sentimenti, c'è il sigilo di garanzia, quindi la garanzia di riuscita, e c'è anche l'albero della vita che è un'altra riuscita, ci sono tante persone intorno a voi, c'è proprio un'energia di tipo anche lavorativo, proprio lavorativo se vogliamo, e c'è l'abbondanza, è uscito il cristallo, il diamante, quindi è uscito l'abbondanza, è uscito l'inizio, è uscito il messaggero, sono uscite delle persone intorno a voi che vi stimano, vi aiutano, c'è molto amore, c'è questo proprio, c'è molto amore, molte emozioni a venire, quindi molto bene gruppo 1, molto bene, e questa garanzia di riuscita, tra l'altro rotonda, come la forma del pentacolo, mi fa proprio pensare a questa carta qui, quindi ottimo, ottimo, un ottimo quadro per voi gruppo 1, sono molto contenta. Niente, io spero che questa lettura vi abbia dato qualcosa, io vi ringrazio, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Allora, 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 ce la possiamo fare? gruppo 2, ci sono, eccomi gruppo 2, scusate, mi è cascato di tutto, allora, se avete scelto la coccinella con i frutti della terra, ok, allora questa è la vostra lettura, lascio questa carta per ultimo, perché quella che racchiude l'energia di questa lettura, la lasciamo qua di lato, ho estratto una carta per ogni gruppo dagli arcani maggiori, proprio per avere un'energia un pochino più estesa, e vediamo le vostre carte, allora, abbiamo numero 1 di pentacoli, 1 di denari, wow, qua già iniziamo col strabotto, perché questo è proprio o l'inizio a raccogliere i frutti di quello che avete coltivato precedentemente, o proprio un nuovo inizio, una nuova energia per coltivare qualcosa di nuovo, qui abbiamo anche proprio un portale, un portale correlato alla terra, alla natura, ricordiamoci che i pentacoli sono correlati proprio con il lavoro, il sudore della fronte, quindi un'energia sicuramente terrena, che non mi stupisce, date le carte che c'erano sopra, appunto, alla vostra pila. Abbiamo gli amanti, quindi qui c'è proprio una fortuna anche in senso amoroso, probabilmente avete anche un partner che magari vi sostiene nelle vostre scelte, in quello che normalmente fate nella vita di tutti i giorni. Se siete single, ragazzi, qua la fortuna dice che probabilmente potrete fare dei buoni incontri. Andiamo avanti. Ok, fork in a road. Questa è una carta curiosissima, nel senso che da una parte, questi siete voi, ok? Il gufo rappresenta la vostra saggezza e bisogna vedere se la vostra saggezza vi permetterà di scegliere la giusta direzione, ok? Perché questa normalmente è una carta che dice che siete un po' persi. Ma io devo dire che quello che mi arriva è più che nei prossimi mesi avrete talmente tante cose tra cui scegliere che forse non saprete neanche voi. Vediamo le altre due carte, le normande. Ok, e qua c'è un invito ad affidarsi all'intuito. Quindi abbiamo l'otto di cuori, l'otto di coppe, la luna, quindi un tipo di ricerca assolutamente introspettiva. Quindi non abbiate paura, guardatevi dentro, guardate il vostro cuore cosa vi dice, ci saranno delle scelte da compiere, ma le prime due carte erano assolutamente stra positive, quindi non ho dubbi insomma che sceglierete per il meglio. Vediamo l'ultima carta al sole, non ci posso credere. Allora è la seconda volta che mi capita che esca fuori la luna e il sole. E niente, qui è la riuscita, la riuscita della vostra scelta, perché avete scelto qua un percorso che in realtà vi porterà a brillare. Vorrei far notare che abbiamo ancora un asso di denari, questo anche lui è un asso di denari, quindi abbiamo due assi di denari e questo veramente, cioè, più fortunati di così, nel senso che è proprio l'inizio di una nuova vita, l'inizio di una nuova era, avete scelto proprio, siete sulla buona strada, avete scelto il cammino giusto, fidatevi del vostro istinto, ci saranno ancora più scelte in futuro, ma saprete tranquillamente affidarvi alla vostra buona sorte. Vediamo la carta che rappresenta la vostra energia, il carro. Il carro, e non mi stupisce perché c'è proprio questo movimento costante, siete in costante movimento, qua sono venute le frecce e vuol dire che siete in cammino, qui è venuto il percorso. Siete in costante movimento e non avete scelto neanche molta voglia di fermarvi ed è giusto che sia così. Guardatevi dentro, prendetevi però i vostri momenti per guardarvi dentro, ma queste due carte qua, ragazzi, sono proprio tra l'altro entrambe proprio il giallo, il sentiero, la connessione con la terra, bellissimo, veramente bello, mi piace un sacco. Qua mi viene proprio un'energia terrena, pazzesca, ma una riuscita, peraltro c'è il sole anche qui, una riuscita incredibile. Non dovete avere dubbi, ecco questa carta cosa significa. Non abbiate dubbi, fidatevi, fidatevi di voi stessi che state andando benissimo, state andando come dei treni. Bello, 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 mi piace un sacco. Va bene, vediamo i vostri chance. Allora, gruppo 2. La fortuna per il gruppo 2 nei prossimi mesi. La fortuna per il gruppo 2 nei prossimi mesi. La fortuna per il gruppo 2 nei prossimi mesi. Ok, allora ci sono delle lettere, c'è una P, una C, una F, un sacco di lettere in realtà. Una B, una A, una H. Insomma, ragazzi, io non mi ci metto a fare, lo sapete voi che cosa significano per voi, però abbiamo tanta goliardia, tanto divertimento, il ritornare un po' bambini. Abbiamo un sacco di connessioni, avete un sacco di connessioni con l'esterno. Abbiamo ancora il numero 1. Abbiamo ancora il numero 1, considerato che sono usciti due assi di pentacoli. Non mi stupisce. Abbiamo una trasformazione. State mutando qualcosa nella vostra vita? State lavorando tanto sicuramente, perché c'è il lavoro, ci sono tre attrezzi di lavoro, ma c'è anche tanta spiritualità. È uscita fuori la croce, il fantasma anche. Quindi c'è forse qualcuno che vi sostiene, qualche avo che vi sostiene. C'è l'abbondanza, ragazzi, non vorrei dire. È uscito il pentacolo anche qua, quindi il denaro, ragazzi, regna sovrano. C'è la plastilina che fa sempre parte del divertimento, mi fa molto piacere che sia uscito il gufo, perché ancora una volta è il gufo di questa carta che vi dice fidatevi di voi stessi, fidatevi del vostro istinto, fidatevi del vostro intuito. C'è l'amore e abbiamo tre scritte qua addirittura. Compassion has no limit, kindness has no enemy. Quindi la compassione non ha limite, la gentilezza non ha nemico. Poi abbiamo sign from your heart, no, sing from your heart, scusate. Quindi canta dal tuo cuore, segui il tuo istinto, canta dal tuo cuore. E quindi questa mi si riconnette con la carta della luna e poi abbiamo empty yourself and let the universe fill you. Svuota te stesso e lascia l'universo, che l'universo ti riempia. Se non vi riempie questo sole non so cosa vi riempirà. Niente, comunque state lavorando tanto ma avrete assolutamente i frutti, raccoglierete i frutti, come proprio l'indicazione della pila in realtà. Raccoglierete assolutamente i frutti del vostro lavoro. C'è proprio il pentacolo, c'è il numero uno, quindi un'energia nuova, un'energia anche di cambiamento se vogliamo, perché qua c'è la farfalla. La farfalla è simbolo di trasformazione, però qua c'è anche tanto divertimento, quindi sono felice perché in realtà secondo me troverete divertimento in quello che farete. C'è l'amore, quindi bellissimo, un bellissimo quadro. Niente, gruppo 2, io spero di esservi stata utile, spero che questa lettura vi sia piaciuta. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, vediamo di non far cadere tutto, perché prima a me cado tutto. Ok, arriviamo al gruppo 3. Gruppo 3, se avete scelto questo simbolo della fortuna con il piccolo piattorico micifico di piccole conchiglie, allora questa è la vostra lettura. Allora, questa carta la lasciamo per ultima, è tratta dagli arcani maggiori e rappresenta l'energia generale della vostra fortuna. Vediamo le altre carte. Allora abbiamo il 10 di bastoni, tra l'altro questa carta è incredibile, mi è cascata due volte, l'ho rimessa nel mazzo e niente, per il gruppo 3 è ancora uscita. Cioè, mentre stavo mescolando le carte per il gruppo 3, mi è scappata fuori due volte, ma io quando le vedo le ributto dentro e niente, tant'è, è uscita fuori ancora, va bene. Poi abbiamo l'8 di denari, molto bene, molto bene. Allora, venite da una fatica che però è una fatica che secondo me vi ha dato qualcosa, è una fatica che vi ha dato dell'esperienza, vi ha dato qualche conoscenza, che state applicando in realtà in questo momento, in qualche progetto, in qualche cosa nuova che state affrontando in questo momento, a cui vi state anche dedicando molto, nel senso che abbiamo un 8 di denari, quindi è qualcosa anche per il quale avete lavorato duro forse, quindi c'è comunque un'energia positiva di voi che state andando avanti e che state creando qualcosa, creando qualcosa di bello. Poi abbiamo Peace, ok, quindi un qualcosa che vi fa stare in pace con voi stessi, un'energia che vi dice state andando bene, state facendo una cosa che vi piace, una cosa che magari non adesso, ma in futuro, visto che questa è una lettura per i prossimi mesi, vi darà sicuramente pace, quindi quello che vedo io è comunque serenità nel cuore, stabilità. Vediamo le altre carte, le Lenormand, abbiamo il fante di spade, quindi comunque qui in realtà è rappresentato da questa bimba che si sta divertendo, che sta giocando, quindi c'è proprio una situazione di pace, ma di pace proprio cristallina, ok? Un vostro percorso tornare alle origini forse anche. E poi abbiamo, eeeh, ok, abbiamo due fanti, quindi un'energia, no scusate, non due fanti, due cavalieri, due cavalieri, non so perché vedo il jack e mi viene il fante, ma in realtà su questi sono due cavalieri, quindi energia di movimento, ma energia stra positiva, perché quello che avrete è non solo il raccogliere i frutti del vostro operato, ma la pace nel cuore, la serenità infantile, e ragazzi qua c'è, eeeh, una bella proposta di matrimonio, no, proposta di matrimonio non lo so, però c'è un amore puro, amore puro, tra l'altro vorrei dire, sono uscite le colombe in due carte, tra l'altro qui è una sola, e qui sono due, come se le carte volessero dire, ragazzi se siete single non vi preoccupate che qua, eeeh, c'è un incontro fortuito, un incontro fortunato, che magari potrebbe essere dato dall'energia di prima, ok? Quindi può essere magari un incontro sul lavoro, o state progettando un qualcosa con qualcuno che diventerà più che un amico un'amica, e questo lo saprete solo voi, però è un'energia assolutamente positiva, vi lascerete proprio alle spalle tutta quella che è stata la fatica passata, fatica che però non vedo come negativa in questo caso, normalmente questa carta la vedo un po' come negativa, come un po' di fatica pesante, invece io qui non la vedo, non mi arriva così, mi arriva proprio come un qualcosa che avete fatto in passato, e che però vi ha dato qualcosa, vi ha dato delle energie nuove, quindi in realtà qua c'è proprio un percorso, percorso che appunto vi porterà poi a questa situazione di pace, dolcezza, leggerezza, allegria, amore, sentimento, e che dirvi? Sono curiosissima di vedere questa carta, qual è l'energia generale della vostra, ok, della vostra lettura al carro, devo dire uscito il carro anche alla numero due, però non mi stupisce perché qui abbiamo un cavallo e abbiamo due cavalieri, quindi è chiaro che queste energie sono in costante movimento, infatti non vi dimenticate che la fortuna va sempre un po' spinta, ok, va sempre un po', non dico creata, però sì, anche creata, siate voi fautori della vostra fortuna, e qui c'è anche proprio, viene proprio detto dalla carta, questi siete voi e state lavorando comunque, non è che state poltrendo, aspettando che la fortuna vi caschi dal cielo, ok, quindi noi tutti, tutti noi facciamo delle azioni ogni giorno, ok, per le quali si sbloccano delle energie, ok, per le quali si sbloccano determinate, sì, determinate energie, determinati flussi, determinate aree, chiamatele come volete, ok, e quindi insomma appunto non mi stupisce il fatto che ci sia questo costante movimento, costante movimento che però ripeto qua, queste tre carte che sono poi quelle che riguardano i mesi successi, i mesi prossimi, sono tre carte meravigliose, cioè già, io se mi dicessero, raggiungerai la pace nel cuore, ci metterei la firma, tipo adesso, quindi, e poi sono curiosissima anche di questa carta qua, se siete in coppia, avrete un, se siete single, può essere che troverete qualcuno, se siete in coppia, c'è qualcosa che succederà nella coppia che sicuramente vi riempirà il cuore, mi viene da dire, è una cosa bellissima, effettivamente potrebbe essere con volare a nozze, potrebbe essere, che ne so, un bimbo, chi può dirlo, e questo però, ripeto, lo sapete voi, queste sono letture generiche, quindi io interpreto le carte, però poi dovete essere voi ad applicare quello che io dico, le mie parole, alla vostra vita. Però sono felicissima, perché sono venuti tre quadri stra positivi, oggi, quindi sono stra, stra, stra contenta. Vediamo i vostri Charles. Allora, la fortuna per il gruppo 3, la fortuna nei prossimi mesi per il gruppo 3, la fortuna nei prossimi mesi per il gruppo 3. Ok, non ci posso credere, sono venute ancora le emozioni, è venuta ancora la sirena, tra l'altro mi fa specie perché è tutto marino qua, ho anche scelto l'arcano maggiore dai tarocchi mermaid delle sirene, è uscita ancora la sirena, è uscito ancora il colore blu, potreste essere dei segni d'acqua a questo punto o avete a che fare con dei segni d'acqua? Allora, qua ci sono, c'è una O e c'è una A, questo lo sapete voi, cosa può essere per voi, è uscita una balena, quindi ancora l'energia marina, però anche la serenità, perché la balena è comunque un animale molto sereno. È uscito il fegato, il fegato di affrontare le situazioni, è uscita la magia e è uscita anche la streghetta, quindi sì, c'è qualcosa di magico nell'aria, mi è uscito un uccello, mi viene da dire che potrebbe essere la colomba che si è vista nelle diverse carte, anche se mi sembra più un pettirosso, quindi potrebbe essere un invito alla comunicazione o una buona comunicazione. C'è l'invito dai charms però di guardare al di là del proprio orizzonte, quindi se state pianificando qualcosa, valutate bene sul lungo tempo e c'è proprio una crescita, un'ascesa, la piramide per me è proprio un'ascesa, una crescita, state avanzando di livello in qualche modo, quindi ottimo. Pochi ma buoni, qua mi viene proprio un sentimento proprio, un'energia piena di sentimenti, non mi stupisce perché con questa carta non mi stupisce che mi arrivi questo... questa energia però, questa magia, il fatto che è uscito il fegato, c'è usciranno proprio delle novità belle ma forti, cioè molto profonde, molto profonde, c'è troppo sentimento qua perché sia qualcosa di normale. E wow, bello, mi piace un sacco anche questo quadro, perché l'energia che arriva è davvero magica qui, proprio... magia, magia. Bello, molto bello, un quadro molto bello. E niente, gruppo 3, io spero che questa energia vi arrivi, spero che questa lettura vi sia stata utile, io sono molto contenta, 3 energie del tutto diverse, sono uscite dalle tre pile però tutte e tre molto belle, quindi wow, bello, bello, bello. Basta, la smetto di parlare, andate fuori e conquistate il vostro destino. Io vi mando un bacione enorme, grazie per essere stati qui con me e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!